Maria De Filippi viene picchiata in studio è questo uno dei titoli che viene molto ricercato qui su YouTube ma adesso vi spiegherò come sarebbero le cose questo titolo è falso nel senso che effettivamente Maria De Filippi non è stata mai picchiata in studio secondo la mia opinione questo titolo quindi rappresenta una non realtà è un titolo probabilmente legato a una pagina su Facebook che si chiama proprio Maria De Filippi viene picchiata in studio quindi niente ha a che vedere con la verità e con la realtà e con i fatti concreti che si sarebbero verificati dunque ripeto nuovamente che Maria De Filippi non è stata picchiata in studio questo titolo c'è tra i risultati di ricerca perché ripeto è legato ad una pagina su Facebook solo per questo motivo qua una pagina piuttosto famosa anche perché ha raggiunto anche una elevata quantità di pubblico e il video termina qua iscrivetevi, commentate spero di aver fuggato in voi eventuali rubi e un caro